È un momento d'oro per il tennis italiano, dopo anni, forse decenni, in cui non c'era un giocatore che veniva fuori a certi livelli, dai tempi d'oro di Petrangeli al trio delle meraviglie Panatta, Barazzutti e Bertolucci, tutti erano forti, ogni nazione vantava un fuoriclasse a tennis all'infuori dell'Italia. Gli svedesi e l'australiani, poi è stata la volta degli statunitensi, i francesi, gli spagnoli, ultimi in ordine di grado alla Serbia con Djokovic. E adesso è stato sufficiente che un ragazzo dell'Alto Adice, dal cognome e nome più tedesco che è italiano, invece di diventare un campione di sci, impugnasse la racchetta di tennis ed è scoppiata la sinner mania. Davvero sta facendo grandi proseliti questo giovane altoatesino, finalista dell'ATP a Torino contro Djokovic, poi finalista in Coppa Davis, vincendola insieme agli altri campioni azzurri, dopo tanti anni ha riportato la Coppa Davis in Italia, vincitore dell'Australian Open, di poche ore fa, di questa notte, l'altra impresa di Luca Nardi che è riuscito a battere il numero uno del mondo, Nole Djokovic ai Indian Wells negli Stati Uniti. Insomma la sinner mania sta facendo risorgere questo sport che sembrava dimenticato nella nostra penisola e tante stelle, tanti campioncini stanno nascendo, da Sonego a Musetti, adesso questo Nardi, insomma per non considerare sinner che è diventato il numero 3 del mondo e sta scalando le tappe a furia di vittorie importanti, tutti stanno salendo sul carro di questo sport e dal calcio insomma gli italiani sembrano adesso orientati al tennis, così è la vita, quindi si potrebbe chiamare sinner mania o tennis mania, l'importante è avere davvero dei rappresentanti che portano i colori dell'Italia nel mondo ad onorarla veramente. Sono quegli sport che in Italia si considerano un pochino secondari, come si può dire, adesso quest'estate avremo le Olimpiadi a Parigi e quindi ci auguriamo che tanti altri fenomeni italiani poco conosciuti che non passano per i media, per le televisioni spesso possano riportare tante medaglie d'oro alla nostra nazione. Faccio l'esempio dell'atletica leggera, della scherma, della ginnastica, del nuoto, sono sport considerati di secondo piano ma che annoverano ogni 4 anni dei fenomeni davvero di primo livello. E quindi adesso diventeremo forse tutti tennisti dopo un oblio di 20-30 anni, adesso sembra che nascano tutti i giocatori di tennis, tutti fuori classe e va bene così, noi lo accettiamo, ne siamo contenti, ne siamo orgogliosi perché sembrava che tutti potessero giocare a tennis all'infuori degli italiani. E quindi Sinner ha fatto da apripista per così dire, adesso tutti dietro e chiaramente quando vi sono dei campioni da emulare, da guardare, riescono a portare, a trascinare il gruppo verso questi grandi traguardi. Naturalmente noi ringraziamo e facciamo grandissimo in bocca al lupo gli auguri più sinceri a Sinner che possa vincere e continuare a vincere sempre di più per portare il tricolore nelle prime pagine di tutti i giornali in tutto il mondo e che tanti campioncini possano nascere e sbocciare dietro il suo esempio. Ciao a tutti, sono Yannick, mi volevo ringraziare del vostro supporto non solo della finale ma soprattutto per tutto il resto, per le due settimane fantastiche, tutti quelli che si sono svegliati in mezzo alla notte a vedere una partita di tennis, vi voglio tanto bene, un abbraccio a tutti, ciao ciao! La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale youtube, resta sempre informato.